Un anno intenso politicamente, il 2019 che stiamo per lasciarci alle spalle tra poche ore vissuto dall'amministrazione e dal sindaco Seri. Intenso e stressante se pensiamo al passaggio cruciale delle amministrative a maggio in cui i cittadini fanesi hanno deciso se promuovere l'amministrazione uscente come poi è avvenuto o se cambiare rotta. Se la città ci ha premiato vuol dire che abbiamo fatto bene in questi ultimi cinque anni, dice il sindaco in conferenza stampa attorniato da tutti i suoi assessori, unico assente giustificato, il vice sindaco fanesi che dopo la giunta è partito per un breve stacco di meritato riposo. Tanti i capitoli chiusi in quest'anno ma tante sono anche le sfide che ci attendono nel 2020 partendo proprio da un luogo simbolo sia per Fano che per Seri, il Pincio, il cui rinnovamento è certamente uno degli elementi distintivi del suo 2019. È stato un grande risultato, molto apprezzato dai fanesi e non solo. Abbiamo raccontato il 2019 che ha visto le elezioni in mezzo, che ha riconfermato questo progetto di città, il lavoro che abbiamo fatto per ricordare i tanti investimenti che anche il 2019 avevano visto in questa città. tanti milioni di investimenti, tante nuove opere, prosecuzioni, tanti nuovi progetti. La vera differenza anche con il passato è stata proprio questa, la capacità di reperire risorse perché in fondo quando si ha i soldi tutti sono bravi. La bravura è nel reperirli, è nel progettare, nel saper cogliere le opportunità. Cultura, sport, grandi opere, decoro urbano e welfare senza trascurare però sicurezze con le nuove telecamere e bilancio con l'approvazione nei tempi canonici che vale tutta una serie di bonus positivi per la città, le macro aree che riassumono un anno intenso di lavoro. Risultati importanti sono stati sia sotto le opere materiali ma anche quelle immateriali, una crescita culturale che Fano ha avuto in questi anni e riconosciuta, penso anche alla mostra dedicata a Leonardo e Vitruio che ha avuto una grandissima partecipazione ed è una mostra di grandissimo livello che non so se Fano abbia mai organizzato in questi termini, tanti nuovi servizi dall'estensione degli orari gratuiti degli asili e materni dalla 0 a 6 anni a nuovi servizi del welfare e tante nuove progettualità. Ora però il 2020 si apre con importanti sfide che attendono al Varco, la giunta serie e la sua maggioranza, alcune anche di carattere ideologico come il digestore anaerobico o la battaglia per il lisippo o il nuovo polo museale all'ex Filanda che con il teatro romano può rappresentare il vero motore culturale della città futura. Sfide che impongono però di pensare in grande e mettere in campo idee vincenti, innovative e anche coraggiose, pertanto mediocrità, pressappochismo e dilettanti allo sbaraglio a stenersi grazie. 2020 che vorremmo migliorare ancora nell'interesse della città che rappresentiamo per poter lasciare un segno indelebile di tanti interventi che renderanno questa città più bella, più vivibile e più interessante.